Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Proseguono i festeggiamenti per i 50 anni dell'ABCC Montepruno di Roscigno e Laurino. Questa sera con l'iniziativa Un sorriso per l'Africa. Direttore, vuole spiegarci di cosa si tratta? Sì, sicuramente. Stasera è una serata particolare perché la nostra banca, nell'ambito della celebrazione del 50esimo anniversario, ha voluto anche ricordarsi di quelle persone che hanno bisogno più di noi. Un sorriso per l'Africa è un progetto di beneficenza, un progetto che prevede la raccolta di certi fondi per poter svolgere delle opere laggiù, in Africa, dove tutti questi bambini credo abbiano bisogno. Noi come banca già da tempo siamo sensibili alla problematica, tant'è che abbiamo adottato già, stiamo adottando cinque bambini nel Camorum, grazie a Maria Romanelli, che è una nostra conterranea che vive laggiù nel Camorum, attraverso la quale noi stiamo adottando questi bambini, dolci bambini che di tanto in tanto ci mandano le loro letterine, ci mandano le loro foto, vi assicuro che qualcosa di dolce, di bello, veramente si dà senso alla vita, si dà senso veramente a quel poco di beneficenza, ricordandoci che noi viviamo e ci lamentiamo, soprattutto perché sicuramente stiamo attraversando un periodo di crisi, di difficoltà economica, ma certamente abbiamo almeno la possibilità di vivere, di mangiare e di avere i bisogni che ogni uomo ha bisogno. Loro non tanto, non tanto e quindi stasera abbiamo voluto nell'ambito proprio dei festeggiamenti ricordarci di loro e ricordandoci di loro abbiamo messo a disposizione questo spettacolo per far sì che si possa raggiungere una certa quota, la differenza la metteremo come banca e cercheremo di aiutare questi ragazzi che ne hanno bisogno. Giuseppe Cariello della Compagnia Edoardo di Sala Consilina oggi in questa importante iniziativa non solo di solidarietà ai bambini dell'Africa ma anche inserita nei festeggiamenti dei 50 anni della BCC Montepruno di Roscigno e Laurino. Cosa porterete in scena? Porteremo in scena un lavoro che abbiamo preparato da un po' di tempo, io e Edoardo. In pratica si tratta di un collage di pezzi particolari estratti dalle commedie di Edoardo De Filippo. Lo facciamo in un'occasione particolare, come si diceva prima, l'occasione è quella di mischiare il cinquantesimo anniversario dalla nascita della banca BCC Montepruno e questo evento un po' particolare che è legato alla beneficenza e quindi andremo a rappresentare questo spettacolo cercando di raccogliere un po' di fondi per il progetto che abbiamo in mente, cioè la realizzazione di un piccolo blocco operatorio a Kimbondo, una pediatria di tantissimi bambini che si trovano in condizioni un po' sfortunate rispetto alle nostre e nella capitale Kishasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo. Speriamo di fare oltre che una bella raccolta un buono spettacolo. Il Congo perché credo che lì ci sia bisogno, attraverso la compagnia di Edoardo che è tanto sensibile per la verità, devo essere onesto perché proprio Giuseppe della compagnia ha voluto ha voluto proporre a noi questa manifestazione e l'ha voluto proporre qua a Sant'Arsenio che è un paese particolarmente sensibile a ciò e quindi lo stiamo facendo. La costruzione di questo ospedale che certamente servirà ai ragazzi ma certamente sarà anche ampito da altre e altre associazioni, riteniamo di aver fatto una cosa giusta. Io mi auguro che è certamente una goccia in un oceano, però a goccia a goccia credo che possiamo fare tutti quanti il nostro dovere, almeno ricordarci di questi ragazzi. Chi sa, io dico sempre che almeno salvare una vita di uno di loro significa aver raggiunto un grande obiettivo.